Intanto abbiamo questa fase di transizione che è molto delicata, perché noi non abbiamo ereditato una situazione di normalità e di gestione ordinaria che ci permette di fare sin da subito una programmazione più ampia. Abbiamo una trattativa in corso con i ministeri vigilanti, partiremo da un impianto dato, rispetto a questo impianto cercheremo di correggere quelli che riteniamo magari gli errori più macroscopici o comunque di convincere i ministeri dell'opportunità di alcune misure, mettendo in campo gli strumenti necessari a sostenere certe richieste, vedi la vicenda punti nascita. Una volta che avremo chiuso positivamente questa fase e i ministeri ci avranno riconsegnato pienamente le chiavi di casa, dopo l'estate inizia la fase invece di riorganizzazione generale del sistema, credo che ci vorrà un anno circa di tempo anche di confronto con i lavoratori, i sindacati, i cittadini, le associazioni, i territori, i sindaci, come è giusto che sia, c'è un percorso in cui bisogna far partecipare, bisogna conoscere, bisogna entrare nei problemi, bisogna andare nei posti a vedere con i propri occhi, lo sta facendo un po' tutta la nostra amministrazione nel campo della sanità, a cominciare dall'assessore Nicoletta Verì che ringrazio per il grande e competente lavoro che sta facendo e poi appunto tireremo le somme di questa riorganizzazione. Lei pensa a una legge regionale di sostegno all'editoria? Questo era un impegno che ci eravamo presi con tutto il mondo dell'informazione, con il sindacato dei giornalisti, quindi adesso insieme al Consiglio regionale attiveremo un riflessione, una discussione, faremo una proposta che metteremo all'attenzione dell'intero Consiglio e io credo che comunque garantire, soprattutto per la piccola editoria che non è legata a grandi gruppi industriali per i quali l'editoria è un centesimo del fatturato e rappresenta più una vetrina di comunicazione o addirittura di autorappresentazione, ma per la piccola editoria che fa informazione sui territori e garantire questi spazi di informazione e di libertà sia molto utile, fa bene al tessuto civile del territorio.